Le telefonate truffaldine si nascondono dietro un velo di informazioni, l'inganno in evoluzione. Nel vasto universo delle truffe telefoniche, i truffatori hanno sempre cercato di adattarsi e trovare nuovi modi per ingannare le loro vittime. Negli ultimi tempi, un nuovo stratagemma sta emergendo con forza, le telefonate informative e che poi si rivelano truffe. Questo ingegnoso metodo sfrutta la fiducia delle persone nelle fonti informative e le spingi a cadere nella rete dell'inganno. Il cambiamento nella tattica delle truffe telefoniche. Le telefonate truffaldine tradizionali coinvolgevano spesso truffatori che si spacciavano per rappresentanti di istituti bancari, aziende di servizi pubblici o enti governativi, richiedendo informazioni personali o denaro. Tuttavia, oggi stiamo assistendo a un cambiamento nella tattica delle truffe telefoniche. Il ruolo delle telefonate informative. Le telefonate informative e sembrano innocue al primo ascolto. Chiama il tuo telefono un amichevole operatore che sembra provenire da un'organizzazione o un ente di cui hai sentito parlare, come un'agenzia governativa o un'associazione benefica. L'operatore inizia a condividere informazioni che sembrano legittime e rilevanti per te, come notizie sulle tue imposte, la tua salute o la tua sicurezza finanziaria. La svolta, da informativo a ingannevole. Dopo aver catturato la tua attenzione e la tua fiducia, l'operatore cambia il tono della conversazione. Inizia a richiedere informazioni personali, come il tuo numero di previdenza sociale, dati finanziari o persino il pagamento di tasse o multe immaginarie. A questo punto, ti rendi conto di essere caduto in una trappola ben congegnata. Come proteggersi Per evitare di diventare vittime di queste telefonate truffaldine che si presentano come informative, ecco alcuni consigli importanti. 1. Verifica l'identità, non fornire mai informazioni personali o finanziarie a meno che tu non sia sicuro al 100% dell'identità della persona che ti sta chiamando. Chiedi il nome dell'operatore e verifica la sua affiliazione attraverso canali ufficiali. 2. Mantieni la calma. Truffatori spesso cercano di spaventare le loro vittime. Mantieni la calma, non prendere decisioni affrettate e non condividere dati sensibili senza pensare attentamente. 3. Blocca le chiamate sospette. Se ricevi una chiamata che sembra sospetta o inizia a chiedere informazioni personali, chiudi la chiamata e, se possibile, blocca il numero. 4. Segnala le truffe. Se pensi di essere stato contattato da un truffatore, segnala immediatamente l'incidente alle autorità locali e alle organizzazioni antitruffa. 5. Educazione e consapevolezza. Informa te stesso e le persone a cui tieni sulle ultime tattiche delle truffe telefoniche. La consapevolezza è una delle armi più potenti contro i truffatori. In conclusione, le telefonate truffaldine che si presentano come informative rappresentano un'evoluzione preoccupante nelle tattiche dei truffatori. Mantenere una sana dose di scetticismo e seguire le linee guida di sicurezza può aiutare a proteggersi da questi inganni sempre più sofisticati. Non dimentichiamo mai che è meglio essere prudenti che pentirsi in seguito. Grazie a tutti.